Musica Vi presento Faf Expression 710, una macchina che personalmente trovo molto bella esteticamente grazie anche al carter con questa bellissima goffratura sulla parte destra, molto molto carina e elegante. È una macchina per cucito, utile, decorativo, patchwork e quilting, in quanto ha un'area di lavoro molto grande, 25 cm dalla destra del lago. Macchina Faf con doppio trasporto, quindi ottima anche sui tessuti più difficoltosi o imbottiti. Macchina da 9 mm di larghezza punto, quindi tutti i vari punti, abbiamo 274 punti su questa macchina, più tre alfabeti, veramente vari punti per il cucito utile e creativo, potranno essere fatti da 9 mm. Ha la funzione tipering per affusolare, angolare i nostri punti decorativi e trasformarci nei cornicei perfetti. Un display da 7 cm per 5, 3 pollici e mezzo a colori, molto reattivo e veloce, istantaneo, quindi molto molto bello. In fila ago automatico, pressione automatica della macchina che si regolerà in automatico per ogni tessuto, a seconda della grossezza che andrete ad affrontare. Tagli a filo, ha funzione ago alto e ago basso a pulsante. La macchina parte sia con il reostato che con il tasto start e stop. È una macchina molto facile anche da trasportare grazie a questo grande maniglione, corredata dalla grande valigia rigida, ha il suo box accessori dove possiamo organizzare tutto all'interno. La macchina poi, prendendolo, resta un braccio libero ben sottile anche per i tessuti un pochettino più stretti. Nasce a questa indole comunque sartoriale, ha un ottimo trasporto e controllo del punto che mi piace veramente molto e lo consiglio a chi vuole una macchina della categoria più ampia per il cucito sartoriale e per il cucito creativo. Faf Expression 710, una macchina veramente bella e che vi consiglio.